sai che giorno è oggi 17 gennaio bravo la giornata nazionale del dia del dialogo del dialogo inter religioso non mi viene no non meno ecumenica cosa oggi una giornata nazionale dei non mi viene via via dialetti davide da genzano di lucania per voi dica al dia del proverbo un non so se da genzano di lucano per diciamo a baratta cucciuccio dopo l'uomo come ti chiamo bruce lee come ti chiamo anzo penso 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 saluto ma a cina saluta saluto ma salute non saluto mamma 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 saluto ma saluto ma devi dirlo tu saluto ma mamma 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 ok qui saluto ma mamma o oppure assor sole ma mamma saluto ma assorta chi vuoi saluto assorte bravo a chi vuoi salutare amanto assort buo sort assort hai la sorella tu sì mia sorella a lei sua sorella qui salutacela ciao tenso mi raccomando tanto piacere quando litigate come vi mandate al diavolo in qualche volta potrebbe potrebbe succedere india ecco è vero è vero oggi la giornata nazionale non dei fidanzati che si mandano al diavolo ma del dialetto quindi quando tu proprio non la sopporte ti viene da qua cosa le dici non mi viene perché 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 che non è va cac e perché da dove da dove deriva da canos oggi tutti i foggiani lei invece dice lui cosa per ora che ti devo dire ci sono tante cose semplici ma andiamo avanti scusi la divagazione senti parlano tutti in italiano e nella giornata del dialetto hanno tutti l'italiano non signor a bar vecchio si sta bene qualora che era l'ora non adesso quando lo parliamo in che circostanze di solito si dovrebbe parlare per rafforzare il concetto quando non si è ingazzato perché la grande qui diciamo che la frase che ti contraddistingue quando ti parte la bobina qual è quando mi parte la bobina si il mattone come come solitamente si dice sta arrivando sta arrivando sta arrivando proprio sta qua sta arrivando sale 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 si cacca tu eccolo ecco il vero per dare il vero pareschi via sparano no via manzoni poteva farlo invia a sparare arrivederci una cosa intanto lo parli non non me lo faccia diventare desueto non mi viene no ma si no 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 fino a root possiamo dire ma si root tu no puntini puntini vedi se te ne vai da dove vedi se te ne vai qua se dici in calabrese e abbiamo fatto lui nella lei mantiene comunque la doppia fonetica sia calabrese che varie giornata nazionale no non lo so non del rossetto perché un può pensare del rossetto no è la giornata nazionale del diciamo ai nostri amici paresi un detto in trinitapolitese trinitapolese quante cose vi insegniamo vada dica e al momento non so che dire sinceramente che cosa posso dire vettoratore a cast che tradotto perché trasluciamo vatti a ritirare a me è a casa ma sta mano a me sta mano a me no no mi raccomando